Dove siamo andati stasera? Sì. Al Baloo Museum di Napoli, Mostra d'Oltremare. Ora dobbiamo andare sul tappeto verde perché entriamo alle 18. Vero? Non vedo andare ad andare, sì. Sì. Io ho un braccialetto per il porto. Ci siamo messi questi, i calzari, perché a un certo punto ci saranno le bolle di sapone e il pavimento sarà piccolato. Barbie, Lilla, venite qua. Ti piace Barbara? Sì. Ha un bel effetto, eh? Ho un po' paura però. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Il pavimento è il posto e fa odorare, ci ci sono alcuni odori. Ogni amino ha un colore, un odore e un suono verde. Vivi è un'opera d'arte, per piacere, rispettare la musica. Tante non si adottiamo. Hai capito? Non si raccontrava. è tutto rosso andiamo a vedere? si benvenuti proseguite proseguite barbara salta salta vai no non ci si ah no? c'è un bambino che è appena saltato barbara nuota verso il centro allora questa è una piscina di palline di plastica non vi preoccupate non affogherete stiamo facendo due selfie è molto rilassante no 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 dove vai? bambini gara vuole entrare vuole entrare ora cambiamo sala si era bellissima rilassante a 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